Non si è spento il clamore per il ritrovamento di pericolose armi e droga in un casolare di Contrada Battifoglia di Barcellona Pozzo di Gotto e per il quale sono stati arrestati il trentenne Giampiero Munafo e il quarantenne Carmine Di Natale. Come evidenziato nel comunicato stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, il quantitativo e l'offensività delle armi ritrovate, perfettamente oleate e ben funzionanti, lascia ipotizzare che la Santa Barbara di Contrada Battifoglia fosse nella disponibilità non soltanto dei due arrestati, ma anche della locale criminalità organizzata. Un colpo importante, quello messo a segno dai carabinieri della stazione di Barcellona Pozzo di Gotto, la cui attività oltre alla pistola 9x21 di fabbricazione tedesca carica con dieci colpi ritrovata addosso al Munafo e al coltello a serramanico di cui era in possesso il di Natale, ha permesso di rinvenire un Kalashnikov Zavasta M70 calibro 7,62 di fabbricazione serba, noto come AK-47, una mitragliatrice calibro 32 di fabbricazione slava tipo Uzi, un fucile calibro 12 a canne mozze e un ordigno artigianale realizzato con un cilindro in alluminio contenente esplosivo e miccia e inoltre munizioni e 200 grammi di cocaina pura. Sarà il ris di Messina stabilire se le armi possano essere state utilizzate in recenti attività criminali. Intanto la notizia non ha mancato di suscitare le prime reazioni. Il sindaco Roberto Materia si è congratulato con le forze dell'ordine la cui azione di controllo è stata definita costante ed efficace. Il Movimento Città Aperta ha invece voluto sottolineare come sia importantissimo che tutta la cittadinanza sia vigile e si mostri sempre al fianco delle stesse forze dell'ordine.